liberata la piccola marchesa de renondon entrò come un proiettile che frantume un vetro ancora prima di parlare si mise a ridere a ridere fino alle lacrime come aveva fatto un mese prima annunziando alla sua amica che aveva ingannato suo marito per vendicarsi nient'altro che per vendicarsi e una volta soltanto perché era veramente troppo sciocco e geloso la piccola baranessa de grangerie aveva gettato sul canapè il libro che stava leggendo e guardava annette con curiosità ridendo anche lei finalmente domandò che cosa hai fatto di nuovo oh mia cara mia cara è una cosa troppo buffa troppo buffa figurati sono liberata come sarebbe a dire sì liberata da che cosa da mio marito mia cara liberata liberata libera 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 come libera in che modo in che modo il divorzio sì il divorzio ho in mano il divorzio sei divorziata no non ancora come sei sciocca non si divorzia in tre ore ma prove 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 che mi inganna in flagrante delitto pensa in flagrante adulterio lo tengo in pugno oh dimmi allora ti ingannava sì cioè no sì e no io non so insomma ho le prove questo è l'essenziale e come hai fatto come ho fatto ecco sono stata energica virilmente energica da tre mesi era diventato odioso proprio odioso brutale volgare tirannico ignobile insomma io mi sono detta così non può continuare è necessario il divorzio ma come fare non era una facile impresa ho cercato di farmi picchiare da lui non ha voluto mi contrariava da mattina a sera mi costringeva a uscire quando non volevo e a rimanere in casa quando desideravo cenare fuori mi rendeva la vita insopportabile dal principio alla fine della settimana ma non mi picchiava allora ho cercato di sapere se avesse un amante sì ne aveva una ma prendeva mille precauzioni per andare da lei insieme non si potevano sorprendere allora indovina che ho fatto e non saprei ma tu non indovini mai nulla ha pregato mio fratello di procurarmi un ritratto di quella ragazza dell'amante di tuo marito sì giacca ha speso 15 luigi il prezzo di una serata dalle sette a mezzanotte cena compresa tre luigi l'ora per di più ha ottenuto il ritratto mi pare che avrebbe potuto averlo con meno adoperando un'astuzia qualsiasi e senza senza essere costretto a prendersi anche l'originale è carina l'impresa non dispiaceva giac e poi avevo bisogno di particolari di particolari fisici sulla sua persona sul suo seno sulla sua carnagione su mille cose insomma io non capisco ora capisco quando ho saputo tutto ciò che volevo sapere sono andata da un come posso dire da un uomo d'affari sai da uno di quegli uomini che fanno affari di ogni specie di ogni genere uno di quegli agenti di pubblicità e di complicità uno di quelli insomma tu mi capisci sì presso poco e gli hai detto gli ho detto mostrandogli la fotografia di clarisse si fa chiamare clarisse signore mi occorre una cameriera che rassomigli a questa donna la desidero graziosa elegante fine pulita la pagherò quanto occorre se mi costerà 10.000 franchi tanto peggio per me ne avrò bisogno per non più di tre mesi la marchesa continuò il racconto aveva l'aria assai stupita quell'uomo ha chiesto la signora la desidera irreprensibile ho arrossito e balbettato ma sì in quanto approbità l'uomo ha ripreso e come prestazioni sessuali non ho osato rispondere ho fatto soltanto un cenno col capo che voleva dire non importa poi d'un tratto ho compreso che lui aveva fatto un'orribile supposizione e perdendo la mia padronanza ho esclamato o signore non è per me è per mio marito che mi inganna che mi inganna in città e io voglio voglio io voglio che mi inganni in casa capite per sorprenderlo lui si è messo a ridere e ho compreso dal suo sguardo che mi aveva reso la sua stima anzi mi trovava energica avrei scommesso che in quel momento aveva desiderio di stringermi la mano ma detto fra otto giorni signora avrete quel che vi occorre e se è necessario cambieremo anche soggetto rispondo io della buona riuscita mi pagherete solo al risultato ottenuto allora questo ritratto raffigura l'amante del vostro signor marito sì signore una bella donna una falsa magra e che profumo io non capivo ripetei come che profumo lui sorrise sì signora il profumo è essenziale per sedurre un uomo perché gli risveglia ricordi che lo dispongono all'azione il profumo stabilisce oscure confusioni nel suo spirito lo turba e lo svigorisce rammentandogli i suoi piaceri bisognerebbe anche sapere che cosa mangia il vostro signor marito quando va a cena con questa donna la sera in cui voi cercherete di sorprenderlo potreste servirgli le stesse pietanze o lo scopriremo sicuramente signora lo faremo cadere in trappola me ne sono andata esultante mi ero imbattuta in un uomo assai intelligente tre giorni dopo fidi arrivare in casa mia una ragazza alta bruna bellissima con l'aria modesta e insieme audace strana un tipo alla moda lei fu assai compita con me poiché non sapevo abbastanza di lei la chiamavo signorina allora mi disse la signora può chiamarmi rose semplicemente incominciamo a conversare ebbene rose sapete che cosa siete venuta a fare qui lo arguisco signora molto bene ragazza mia e non vi disturba troppo o signora è già l'ottavo divorzio che preparo mi ci sono abituata benissimo occorre molto tempo per riuscire signora tutto dipende dal temperamento del signore quando avrò veduto il signore per cinque minuti da sola potrà rispondere con precisione lo vedrete fra poco ma vi avverto che non è bello non vuol dire signora ne ho già fatti divorziare tre che erano bruttissimi ma io mi permetto di chiedere alla signora se si è informata del profumo sì rose la verbena tanto meglio signora questo torio mi piace assai la signora può anche dirmi se l'amante del signore porta biancheria di seta no mia cara porta biancheria di batista con pizzi o allora è una persona come si deve la biancheria di seta incomincia a diventare volgare quel che dita è verissimo ebbene signora inizio il mio servizio inizio infatti il suo servizio come se per tutta la vita non avesse fatto altro un'ora dopo mio marito l'incasava rose non alzò nemmeno gli occhi su di lui ma li alzo lui su di lei già emanava un gran profumo di verbena cinque minuti dopo rose uscì mio marito mi piace subito chi è quella ragazza ma la mia nuova cameriera dove l'avete trovata ve l'ha procurata la baronessa di grangerie con le migliori referenze ah è molto carina vi pare ma sì per una cameriera ero entusiasta capivo che già abboccava la sera stessa rose mi disse ora posso promettere alla signora che non ci vorranno più di 15 giorni il signore è facilissimo avete già provato no signora ma si capisce alla prima occhiata passandomi vicino ha già voglia di abbracciarmi otto giorni dopo mio marito non usciva quasi più di casa lo vedevo tutto il pomeriggio girellare in ozio e il più significativo era che non mi impediva più di uscire e io stavo fuori tutto il giorno per per lasciarlo libero il nono giorno mentre rose mi spogliava mi disse con aria timida è già successo signora da stamattina rimase un po sorpresa un po confusa anche non per il fatto in sé ma piuttosto per il modo con cui me l'aveva detto balbettai e e e è andata bene oh benissimo signora già da tre giorni mi stava dietro ma non volevo andare troppo alla svelta la signora mi dirà quando decidere il fragrante delitto sì ecco facciamo giovedì vada per giovedì signora fino a quel giorno non accorderò nulla per tenere il signore ben disposto siete sicura di non fare fiasco o sì signora sicurissima aizzerò il signore in modo da farlo cadere giusto allora che la signora vorrà indicarmi facciamo per le cinque mia cara rose vada per le cinque signora e in che luogo ma nella mia camera va bene nella camera della signora allora mia cara senti quel che ho fatto sono stata da prima a cercare papà e mamma poi mio zio doverlain di presidente e poi il signor raplet giudice amico di mio marito non li ho prevenuti di quel che avrei fatto loro vedere li ho fatti entrare tutti in punta di piedi fino all'uscio della camera ho aspettato le cinque precise come mi batteva il cuore avevo fatto salire anche il portiere per avere un testimonio in più e poi nel momento in cui la pendola ha cominciato a suonare ho spalancato l'uscio sarà cascato in pieno in pieno mia cara o che faccia se tu avessi visto la sua faccia si è voltato quell'imbecille com'era buffo ridevo ridevo e papà si è inquietato e voleva picchiare mio marito e il portiere da buon servitore lo aiutava a rivestirsi davanti a noi davanti a noi abbottonava le sue bretelle e i pantaloni che commedia in quanto a rose perfetta assolutamente perfetta piangeva piangeva benissimo è una ragazza preziosa se tu ne avessi bisogno non te la dimenticare ed eccomi qui sono subito venuta a raccontarti come è andata subito sono liberata e viva il divorzio e si mise a ballare in mezzo al salotto mentre la piccola baronessa pensosa imbronciata mormorava perché non hai invitato anche me a vedere